Ho sentito auguri a tutti i nostri associati per un bellissimo anno 2018, ringrazio per l'anno che è passato, che siamo stati insieme, di tutte le cose che abbiamo fatto insieme e adesso abbiamo in programma bellissime cose, vi aspettiamo, diteci anche voi quello che serve a voi, le vostre necessità, cosa potrebbe essere utile per voi, quindi noi siamo a disposizione, siamo la vostra associazione e vi aspettiamo nell'anno nuovo. Buone feste a tutti e buon anno. Auguro a tutti buon Natale, a voi, alle vostre famiglie e felice anno nuovo. Buon Natale a tutti. A tutti un buon feste, buon Natale, da parte del vecchio Presidente perché credo di essere il più vecchio di tutti, penso di essere. Tanto volevo fare auguri a tutti per un buon Natale, a prima salute perché tutto altro vedo che quasi sono tutti capaci a farselo, se c'è salute tutto è possibile. Auguro a tutti i consociati, vicini e lontani, bulgari, italiani, un lieto 2018. Vorrei finire con gli auguri di buon Natale, di buon anno nuovo per tutti, è stato un vero piacere. È stata una bellissima serata, molta partecipazione, tutti molto attivi, io auguro a tutti un buon Natale e felice anno nuovo. Grazie a tutti.